Nel turno infrasettimanale la prima sconfitta stagionale Oggi per il CMB bisogna tornare a fare punti per la classifica e per i propri tifosi Gianluca Valente E Davide Menolascina Vi danno il benvenuto per assistere insieme al match tra signor prestito CMB e Real Arzignaro Gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A Abbandona i pali Mieger Weber, secondo momento Vega A spazio sul secondo palo c'è Caruso Da zero metri fallisce l'uno a zero Ma seguiamo questa ripartenza di Fusari per il CMB Diagonale, palla di pochissimo a lato Poi il passaggio in prestito allo scorso anno Adesso il riscatto Caruso Ed è proprio Pozzi che devia il pallone in corner Ma recupera la palla Vega immediatamente per il CMB Fusari, di tacco palo esterno di Fusari Scarico di tube per Lignares Bella finta Lignares 1 a 0 CMB la sblocca Il numero 8 della compagine lucana Caruso, ottimo il controllo di palla Scarico per Fusari Di punta con il piattone Pozzi A disposizione i time out per entrambi gli allenatori Riparte Morillo, Morillo, Morillo Con le ginocchia Weber, Tobe D'esterno per Caruso Scambiano i due, ancora Tobe Apertura per Pulvirenti Caruso 2 a 0 CMB Da pochi passi Caruso mette dentro la rete del raddoppio Molaro classe 98 Tentativo Si gira e c'è il gol Fusari Trisse del CMB Ed è un passaggio importante nell'economia del match Funziona la grande l'asse Zancanaro Fusari Due vittorie di una sconfitta Quella maturata Proprio nel corso del turno in frasetti Manale Morillo Palla per Molaro Palla fuori E come la palla Molaro Molaro, Molaro Ottima La chiusura in fallo laterale Proprio Zancanaro sul punto di battuta Palla per Vega Zancanaro Marzio Zancanaro Il capitano la mette dentro 4 a 0 CMB Vega Lisce per il pallone Ancora scambio Vega, 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 Vega Palla in mezzo Zancanaro Ancora Zancanaro Due volte Sabri Palla al piede Apre per Amoroso Si accentra Ancora Amoroso Ricordiamo Rotazione diversa rispetto al solito Per Scarpitti Rivede l'assenza Attenzione c'è la rete Guati Il possibile tap-in di Tobe Amoroso perde palla Fusari Tobe Fusari Clamorosa la parata di Pozzi Zancanaro CMB E' il pezzo forte della casa Anticipo sull'avversario E poi Botta di sinistro In diagonale In transizione Cerchio di centrocampo Amoroso Centro al prende Per Morillo Grande parata Da parte di Weber Che si distende In spaccata Attenzione Tobe Poi Morillo Miracolosa La parata Di Weber Ma c'è Ammunizione per Michael Weber Calcio di rigore Partiamo Rosso E la palla è direttamente fuori Ancora Fusari Serie finte Che però Non trago in inganno Morillo Ancora Morillo Vincere contrasto Con Lignares Scarico per Guati Non perfetto Weber Rimedia Sul pressing di Marzio Palla per Petragarlo Lignares E sono sette Sette a uno CMB Doppietta per Lignares Punto esclamativo Sulla vittoria del CMB Che arriva proprio in questo momento Il fischio finale Per una nuova Grande prestazione Del signor prestito CMB Che batte Sette a uno Il Real Arzignani Sì